eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri un video breve per augurarvi un buon weekend ragazzuoli belli buon sabato 25 giugno 2022 ore 19 e 36 buon aperitivo a tutti buona cena a tutti buona sabato sera a tutti si parte la grande buon weekend ragazzi noi ci vediamo lunedì sera ripeto un video breve per augurarvi buon weekend e aggiornarvi velocemente sulle notizie perché il sabato non ha senso fare un video lungo e ufficiale come i miei soliti settimanali ragazzi faccio una battuta i soliti noti praticamente sono saltati fuori ieri dopo l'annuncio di bootman al newcastle praticamente con la solita sfiducia contro la proprietà e tutto il resto io via vi vi dico una cosa dovete avere fiducia nella nostra proprietà nella nostra nuova proprietà nuovo socio in affari di elliot e soprattutto nella nostra dirigenza se non avete capito questo ragazzuoli belli lo dico simpaticamente parlando e ragazzuoli belle siete messi malissimo per cui vi mando un abbraccio a proposito a voi i soliti noti che avete sfiducia nella proprietà e la nostra dirigenza complimenti un applauso all'under 15 del milan che ieri ha vinto lo scudetto uno spettacolo stiamo scoprendo un grande attaccante uno spettacolo doppio maldini oggi ha fatto i complimenti ragazzi ha festeggiato con i ragazzi per cui dopo lo scudetto della nostra squadra lo scudetto anche l'under 15 praticamente siamo un vero spettacolo allora ragazzuoli belli in questo aggiornamento c'è la proposta ormai ufficiale a slateni bremo e c'è per il contratto come già si prevedeva praticamente un bonus che va poi a migliorarsi da gennaio 2023 in poi nel senso di dire non prenderà più lo stipendio che ha preso questo anno questa stagione appena passata ovviamente prenderà molto di meno si parla di circa la metà per cui comunque libra rimarrà nella squadra per fare il nostro mental coach colui che praticamente già svolgerà un ruolo dirigenziale come ho sempre detto ragazzi lo sapete lo avete visto in copertina però prima di arrivare a ziec del cessi praticamente vi voglio ricordare che questa è una chicchetta che comunque de keteler ha rifiutato il lizz in premier league come squadra per il prossimo bravo de keteler bravissimo questo è già un ragazzo che ha le idee chiarissime su ziec allora su ziec c'è da fare un discorso molto breve abbiamo già capito che sulla destra abbiamo bisogno di un ulteriore rinforzo allora sales maker sì ma fino a un certo punto messias sì ma fino a un certo punto poi il sul milan lo sapete ha messo sul mercato comunque rebic e sales maker messias che fine sarà dobbiamo aspettare perché è in orbita monza ma ziec che cosa volete che vi dica allora ziec se non mi ricordo male è un 1993 per cui i suoi anni ce li ha è fuori dai parametri del mina cioè fino ai 24 25 anni però ragazzi è uno di quel di quegli uomini che ha detto maldini esattamente due giorni fa lo ha dichiarato maldini due giorni fa ai microfoni di da son ci vuole quel mix di esperti con giovani talenti ziec è un esperto sicuramente sulla fascia destra può dare sicuramente una mano ancora le capacità fisiche la tecnica per poterlo fare poi ragazzo si vuole riscattare si parla di un prestito tra i 6 7 milioni di euro bisogna decidere la cifra del riscatto per cui ragazzi cosa volete che vi dica è uno spettacolo come al solito ve lo ricordo dovete avere fiducia nei nostri dirigenti e queste sono notizie per oggi che riguardano il milan sul discorso invece stadio anche qui vado veloce però è una cosa importante oggi il massimo dirigente dell'inter ha fatto una dichiarazione che a me è fatto un piacere enorme cosa ha detto antonello il massimo dirigente dell'inter ha detto bene noi stiamo spingendo molto per rimanere a san siro e fare creare lo stadio nuovo a san siro insieme al milan siamo già in accordo con tutto a proposito vi do una notizia che non è brutta ma vabbè è quello che è il progetto di popolus cattedrale è già scaduto come progetto nel senso i costi sono già raddoppiati no sto dicendo una sciomata sono già aumentati di una certa percentuale si parla ecco perché stavo facendo il segno 2 di un 20 per cento in più vi spiego la faccio in breve popolus quando insieme a manica ha creato il progetto da quando l'ha finito l'ha presentato a milan inter ad ora visto tutti gli sconquassi che ci sono a livello economico il progetto è aumentato del 20 per cento per cui vuol dire che ora che si mette in moto il discorso popolus si arriverà a un 40 50 per cento in più e vai allegria per cui il progetto popolus molto probabilmente è già accantonato perché bisogna in teoria se si sceglie quel progetto rifare i calcoli ma lasciate stare questo discorso perché è un dato di fatto è aumentato il progetto il costo però il concetto è questo antonello ha detto una cosa che a me ha reso molto felice oggi oggi mi ha fatto quasi svoltare la giornata da un certo punto di vista per le notizie che riconcernano il nostro milan cantonello dice bene noi abbiamo dei tempi serrati vogliamo chiudere vorremmo rimanere a san siro il comune continua a fare parole dolci ma poi alla fine fia di concretezza non se ne fa niente dibattito pubblico testemmenate però antonello ha lanciato una piccola affermazione che fa la differenza nel mondo ha detto antonello semplicemente quello che io invidio detto qualche video fa e che me lo auguro e che deve succedere così beh insomma se dovessimo valutare tempi più stretti per avere lo stadio e se il milan decide per sesto per noi dell'inter rimanere a san siro non c'è nessun problema allora visto e considerato come va la burocrazia la politica in italia ormai ne ho fatto un mantra nel mio canale soliti discorsi solite storie solite leziosità burocrazia come ho detto prima scusate il gioco di parole infinito io l'ho sempre detto il sindaco sala deve rimanere con un pugno di mosche in mano e ho detto pochi video fa il milan deve andare a sesto e l'inter si deve attenere san siro a quanto pare antonello l'ha capita questa storia antonello l'ha capita questa storia e capire questa storia essere già in accordo con il milan della serie beh senti al milan a scaroni se non arriviamo in accordo facciamo così cioè freghiamo completamente il comune milano nel senso fregare no perché comunque l'inter si tiene il suo san siro lo rifarlo riam moderna ma da un certo punto di vista il comune milano non ci perde del tutto ma qualcosa di splendido chi è che lo fa lo fa il milan e io lo ripeto per l'ennesima volta jerry cardinale è arrivato al milan per questo ruolo cioè per fare lo stadio nuovo è un spettacolo buon weekend forza milan sempre comunque ovunque ciao